Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordè. Siamo al panino gourmet ignorante con Vittorio Gucci. Questo vino di Ron Moss, questa idea. Bellissima idea, l'idea del mio amico Ron Moss. Vino è fermo, non è moss però. L'ho provato quest'estate in anteprima a Fasano perché sono andato a trovarlo. Siamo molto amici, abbiamo avallato all'idea di presentarlo qui da me nel mio primo panino ignorante gourmet di Milano. Ed eccoci qua finalmente. Ecco Gucci, Vittorio, raccontaci un po' questo mood del panino. Il panino ignorante gourmet. Non volevo dirlo ignorante. No, no, beh, ignorante, quindi la chiave è quella proprio perché io mi vedete sono molto ignorante, ciuffo, tatuaggi, però gourmet perché fondamentalmente dentro sono sensibilmente gourmet. Quindi cosa faccio? Faccio dei panini di pesce di mare, vegetariani o vegani, molto grossi, con dentro degli ingredienti che li rendono gourmet spettacolari. Vi aspetto, il primo l'ho aperto in via Vigevano 34 a Milano, Porta Genova. Adesso siamo in apertura in altre città d'Italia. Ah, quindi diventa un... Un format, sì, un franchising, sì. Un franchising, wow, complimenti. Ma conosciamo Vittorio, da dove arrivi? Io arrivo dal mondo della TV, ho fatto un po' di cose, ho fatto Buona Domenica, ho fatto Saturday Night, da lì ho cominciato a fare la cucina, che è stata sempre la mia seconda passione. Adesso faccio gli show cooking, quindi faccio musica e cucina insieme, facendo il musical chef, così come Ron Moss mi ha etichettato. Tra l'altro questa è l'eccellenza che a noi di Italia da gustare piace raccontare, questa è l'Italia che muove, insomma, dalla musica al vino al cibo, insomma, dal giovanotto Vittorio. A tutto, musica è questo, alla fine l'Italia che cos'è? Buon cibo, donne straordinarie, musica, volare, o sole mio, che cosa dire? Mare... Dai, facci due battute cantando. Eh beh, cantando posso dire, penso che un sogno così non ritorni mai più, cin cin. Grazie Vittorio, sei una grande persona, grazie. Grazie a voi, a presto, ciao. Salutiamo Vittorio Gucci da Milano, a voi la linea. Grazie a voi, a presto.